metterà un altro, se posso mettere, la muove due, cioè metterà un altro e muove nei due. Non c'è distanza. Il portiere è pronto, attaccante e tiro. Te la riporta? Sì. Bello, metterà il lato. Buonanotte. Ci sono due o tre? Tre. Ma l'ha detto lui. Ma l'ha detto lui. Ma l'altro ce l'andava, perché l'ha avuto. Ah! Hai chiesto un po' di soffa, eh? Esco. Eccoci. Ah! Troppo! Addirittura di Lupe dal giro. Ma questo è il tuo. Mamma mia. È il mio, eh? Eh, non ce l'ho mai dire, non ce l'ho mai dire, non ce l'ho. Così, così. Ti cazzo d'arvelo. Ciao. Un attimo. E poi c'è un apporto. Sì. Cosa c'è? Sì. Entrata? Sì. Sì. Allora, chiudo l'occhio. 3 a 0 un dito un dito là qua 3 3 a 0 vai 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 Ecco, poi perché sono andato a fare quella mossa lì che non aveva senso, guarda. Ma che l'ha fatto bene, non ci sono. Sì, ma non nemmeno visto. Mi sembrava da su questo. Anche a me, l'avevo lanciato lì e ho detto che ho il mio. Guarda che pallina è fatta. Il carburo se lo voglio. Sì, mi sembrava che cosa stava. Mi sembrava di illuminare se il tuo cavo di testa andava. Non lo so. Dai. Grazie. Prova di là. Ecco qui. Non è vero. 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 mamma mia mamma mia mamma mia e che cazzo l'ha fatto? rimessa dal fondo rimessa dai? funno, due funno ma se mi allontani da spettatore che ne pensi? io lo sto guardando, lo sto osservando soprattutto per imparare un po' di trucchi del subutio è una bella partita, è tesa, c'è questo discorso degli occhi che sta latimando ma perchè quando gioca a Milo si muove sempre ma saranno i polli è andato a letto tardi ma non perchè guardava padre Mariano, guarda qui cosa guardava su che canale eri? no Marcello, non il mio ehi Marcello, su che canale eri? è mostro? no Marco scusami, un applauso anche all'impegno di Pozzi ad arbitrare a un certo punto ha proprio fatto questa mossa per vedere il fuori gioco si era fuori gioco bella calda ma perchè è cieco no? no no Pozzi è sempre disponibile torniamo nel silenzio della partita un bacio un bacio è meglio tutto qui? si è andata bene se mi si trattava? era rigore espulsione fatto dai no dentro 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 vabbio ua E' un po' di gioco Oh che padre Bellissimo Ah io l'ho fatta di pensieri Andiamo a me Un po' di gioco Sì, buonanotte Beh, alvelo No, va Buah, tra me Allora, c'è nel tuo campo E' un po' di gioco Eee, la Ah Iniziamo Allora Uno E due E' un po' di gioco Per definire un po' di manica Ampio Grazie E' un po' di gioco Si Allora, ne va due Ne va due E' un po' di gioco Mancano due minuti e dieci alla fine 3 a 0 per il Luton Town Confronti di una Stoneville Che non vede il campo Fa un senso lato Possiamo dire che l'huton è già in semifinale Sì Riparte la Stoneville Sta giocando malissimo Facciamo quelli No No Non è stata volta All'ultimo Spandiamo Non è troppo Non ti affermo Non era mica il volo Non ti affermo Punizione Punizione Mino cerca i falli Ma ormai Marcello può cercare Il voto Si chiama Fischio Ah Ah E' allo scadere I due contendenti Si stringono la mano Camerino Camerino Lanciato verso la vittoria Queste trappi Di questo 4 a 0 Metta un po' Speriamo Speriamo di riprenderci Le FH Che avevamo lasciato Alla Strombilla Che è successo a Gualerci stamattina? A Gualerci Sotto tono Non aveva dormito Invece di trombare Forse era meglio Se dormiva Sentiamo l'arbitro Un attimo Se ne penso Di questa partita Arbitro Pozzi E la partita Si è decisa Sul primo golo Che non ho ripreso La difensiva Sbagliata E le partite Si decidano Su questi Dettagli E ci può Da fare Dalla sede Dele Maremma Subutio Vi salutiamo Buon saluto Dalla